Dopo l'intervento del leader regionale dell'Udc, Giorgio Oppi, arriva alla replica del sindaco e dei capi gruppo di maggioranza. Correttezza e lealtà guidi nella nostra azione, dice Conoci. Da oggi riflettori puntati su Roma per la scelta del Presidente della Repubblica, ai nostri microfoni le impressioni della deputata algherese del Movimento 5 Stelle, Paola Dejana e del senatore della Lega, Carlo Doria. Da sabato ce lo stoppa la pesca di ricci per tre anni. L'assessore Burgi rassicura avviate le procedure per gli indennizi. Stiamo seguendo il percorso tracciato dalla legge. Un buon inizio di settimana a tutti voi e bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. In primo piano la politica, la politica cittadina perché restano abbastanza tesi i rapporti. all'interno della maggioranza, in particolare tra il sindaco Conoci e l'Udc. Dopo l'intervento che ha suonato come un ultimatum del leader regionale centrista Giorgio Oppi è arrivata la replica del primo cittadino ma anche dei capi gruppo di maggioranza. Ho apprezzato l'intervento del leader regionale dell'Udc che scende in campo per dare una mano agli amici locali spostando l'attenzione del suo partito dagli equilibri numerici interni alla maggioranza, l'attività amministrativa e le cose da fare. Si apre così l'intervento del sindaco Mario Conoci che risponde a Giorgio Oppi a stretto giro di posta. Su questo terreno le riflessioni all'interno della maggioranza sono in corso sin da prima dell'avvio del mandato e addirittura della scelta del sindaco non si sono mai fermate, sottolinea il primo cittadino. Ancora di più in questi ultimi due anni con l'irrompere della pandemia è stato necessario modulare l'azione di governo per far fronte alle mutate condizioni che hanno impegnato l'amministrazione sia sul fronte sanitario che su quello della programmazione e dello sviluppo. Lo abbiamo fatto tutti insieme, individuando sempre scelte condivise anche dall'Udc che infatti mai ha fatto mancare il suo consenso attraverso discussioni e confronti approfonditi. Voglio rassicurare all'Udc che continueremo a farlo su tutti i temi in campo senza prevaricazioni e condizionamenti. Altrettanto, proseguo e conosci, voglio rassicurare l'Udc sul mio costante impegno per favorire l'unità della coalizione rispetto alla quale deve permanere però l'altrettanto fondamentale contributo dei partiti che la compongono. Su correttezza e lealtà è superfluo un invito essendo questi i principi che hanno da sempre caratterizzato il mio operato. Correttezza e lealtà verso i cittadini e verso gli impegni presi nei loro confronti, verso la coalizione e infine verso i singoli partiti. Proprio in quest'ordine. E sono sicuro, analoghi i principi e priorità sono propri di tutti i componenti della nostra coalizione. E mi dichiarazioni circa l'esito dell'ultimo confronto di coalizione. Altro non sono che il riassunto di ciò che ogni forza politica ha espresso. E mi dispiace non siano piaciute, ma sono la semplice e rispettosa rappresentazione della realtà, chiarisce poi il sindaco. Infine, non ho dubbi sulla tenuta della coalizione a livello locale, sul e non solo finale. Spero altrettanto, ma davvero non so a cosa ci si riferisca, aggiunge Conoci. Parlando proprio dell'ultima parte di Nota di Oppi, quando faceva riferimento alla tenuta della coalizione ad Alghero e a livello regionale. Quindi, la chiusura del sindaco. Confermo il mio massimo impegno per dialogare con tutti e su tutto, nel massimo rispetto e correttezza, garanzia della coalizione naturalmente, senza imporre né subire imposizioni. Come detto, però, oltre all'intervento del sindaco, c'è stato anche quello dei capigruppo di maggioranza e quindi nello specifico di Forza Italia, noi con Alghero, riformatori, Lega, Pisdaz e Fratelli d'Italia. Rileviamo che dall'alto della sua esperienza il leader dell'Udc regionale, Giorgio Oppi, in maniera responsabile, ha spostato il focus politico dell'Udc algherese dagli assetti e dagli equilibri di giunta alla svolta post-covid e al disegno dell'Alghero dei prossimi vent'anni, sulla quale sta lavorando la maggioranza. Anche se non possiamo negarlo, non abbiamo compreso riferimenti al quadro politico regionale e non condividiamo la sottolineatura relativa ad atteggiamenti del sindaco, non in linea con le esigenze di coesione della coalizione, si legge nella nota diffusa ieri. La linea dei rapporti interni della coalizione è dettata infatti dalla coalizione stessa e vede il sindaco nella veste di interprete ed esecutore. Oggi la maggioranza è fortemente impegnata ad affrontare i problemi della città, delle imprese, delle famiglie e dei giovani. Siamo convinti che l'Udc, col presidente del Consiglio Comunale Salvatore, con i consiglieri Ansini e Mulas e con il suo leader Usai, saprà dare un contributo di competenze ed esperienza che potrà velocizzare e migliorare gli interventi amministrativi nell'interesse degli algheresi, scrivono ancora i capigruppo di centrodestra. Vogliamo parlare di temi e di problemi, vogliamo individuare soluzioni, anche se non rifugiamo dal dialogo finalizzato ad affrontare le aspettative di alcuni esponenti dello scudo crociato. Dialogo che è naturalmente legato ai volumi di rappresentatività dei singoli partiti espressi in campagna elettorale e riconosciuti in avvio di consigliatura. Ma occorre uno sforzo collettivo per superare le incomprensioni che sono fisiologiche anche nelle famiglie più affiatate. Siamo al servizio di Alghero e degli algheresi e dobbiamo continuare ad anteporre l'interesse collettivo a quelli, seppur legittimi, dei nostri partiti. Alghero, concludono il capigruppo di maggioranza, ha bisogno di coesione politica e di sentimenti comuni di appartenenza. In questa direzione va la proposta del sindaco Tesa a coinvolgere l'opposizione nella fase di programmazione che sta caratterizzando la fase post-pandemia per rilanciare il nostro sistema economico. Da Alghero a Roma restiamo in ambito politico, ovviamente, perché questo pomeriggio ci sarà il primo voto per l'elezione del Presidente della Repubblica. Ancora non c'è un'intesa tra i partiti, con il Premier Mario Draghi, che è una delle ipotesi più forti, ma non sono escluse sorprese. Tra i grandi elettori ci sono per la Sardegna, lo ricordiamo, il Presidente della Regione Cristian Solinas, il Presidente del Consiglio regionale Michele Paes, oltre al capogruppo DEM Gianfranco Ganaum. Ovviamente anche la folta patuglia sarda di deputati e senatori. E noi a tal proposito, nei giorni scorsi, abbiamo intervistato proprio la parlamentare algherese del Movimento 5 Stelle, Paola De Iara, e anche il senatore della Lega, Carlo Doria. Sentiamo le loro impressioni. Momento importante, più importante per il nostro Paese, o che puntati su Roma, si sceglie il nuovo Presidente della Repubblica. Sì, noi grandi elettori saremo chiamati a giorni a votare il nuovo Presidente, il nuovo Capo dello Stato, un appuntamento importantissimo, dopo un lungo settennato e anche faticoso del Presidente Mattarella. Diverse le ipotesi in campo, ovviamente ci saranno da scegliere diversi nodi anche tra i partiti. Assolutamente sì, in queste ore ovviamente i capi politici sono riuniti per cercare un accordo che sia il più condiviso, e ovviamente un nome che non debba essere gradito solo ai partiti, ma all'intera nazione. L'importanza comunque, l'importante anzi, è che il governo, l'azione del governo, di questo governo vada avanti. Sì, ovviamente la scelta del Quirinale detterà sostanzialmente anche una scelta futura per quelle che saranno le sorti del governo, che potrebbe essere esattamente l'assetto attuale o probabilmente un assetto differente. L'Italia intera guarda al voto per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica. Attualmente possiamo dire che siamo in una fase di stallo? Ma diciamo che il Presidente della Repubblica per definizione è il garante dell'unità nazionale. Oggi noi siamo in una situazione particolarmente critica, correlata al fatto che c'è una situazione pandemica non risolta e anche una congiuntura economica correlata alla pandemia. Ed è per questo che si è dovuti creare una compagine molto allargata di governo. In questa compagine allargata di governo è indispensabile trovare la quadra per una figura che possa condividere degli ideali di unità nazionale. Chiedere a Mattarella un bis perché non si riesce a mettersi d'accordo penso che sia espressione di una pochezza che l'Italia non si merita. Quindi reputo che in questi prossimi due giorni si potrà trovare una quadra, trovando eventualmente una figura che sia a garanzia di un equilibrio delle parti. Il centro-destra in questo momento numericamente ha delle carte in più da giocare rispetto al passato. Secondo me è una figura moderata, magari femminile, espressione quindi una novità che penso che gli italiani siano pronti a sostenere e si possa trovare. Sardegna da oggi ufficialmente in zona gialla. Anche se in realtà sulla base dei decreti approvati dal governo nel mese scorso, molte distinzioni sono cadute dall'introduzione del Green Pass rafforzato anche in zona bianca, passando per l'obbligo di mascherina all'aperto, che prima era solo previsto per le regioni in giallo e ora anche per chi si trova in zona bianca. Differenze che si notano invece solo con il passaggio in arancione, sebbene siano previste restrizioni più che altro per i non vaccinati. Intanto, sulla base degli ultimi bollettini, contagi in calo in Sardegna, anche se continuano ad aumentare i ricoveri in area medica. Ieri i nuovi casi registrati sono stati 795, oltre a quattro decessi, sulla base di 3.391 persone testate e 10.136 tamponi processati con un tasso di positività del 7,8%. Abbiamo detto dell'ulteriore aumento di pazienti ricoverati in area medica, 12 in più, è totale che è salito a 287, mentre è stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva, 30 sono infine 22.303 le persone attualmente in isolamento domiciliare. Positivi in calo invece ad Alghero, sulla base dell'ultimo rilevamento, ora sono 348, sulla base di 55 nuovi positivi, ma anche 99 guariti, da qui il calo appunto di positivi. Le persone che si trovano ricoverate in ospedale sono invece 7, una in più rispetto al precedente aggiornamento fornito da ATS al Comune. Chiudiamo la prima parte con la cronaca invece, con il grave incidente avvenuto ieri, ieri mattina in via 24 Maggio a Maria Pia, un motociclista a bordo della sua Harley Davidson, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto ed è uscito fuori strada. Sono stati alcuni passanti a prestare i primi soccorsi, e poi sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, anche con l'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Santissima Annunziata di Sassari. Ci fermiamo ora per un break pubblicitario, a tra poco con la seconda parte. Il 22 gennaio stop alla pesca del riccio di mare, il provvedimento reso sì necessario per stabilire un percorso finalizzato, a trovare una soluzione non più procrastinabile al concreto problema di riduzione della specie nel mare territoriale della Sardegna coinvolge un intero comparto. In questo senso l'assessore regionale competente, Gabriella Murgia, spiega come siano state avviate le procedure per l'indennizia che si sta seguendo il percorso tracciato dalla legge. Le strutture dell'assessorato e dell'agenzia Agris stanno dedicando il massimo impegno possibile alla pronta definizione di un quadro di regole e procedimenti necessari per dare attuazione all'articolo 13 della legge regionale 17 del 22 novembre del 2021, approvata in Consiglio con ampio consenso. La legge che stabilisce un percorso finalizzato a trovare una soluzione non più procrastinabile al concreto problema di riduzione della specie nel mare territoriale della Sardegna prevedeva la chiusura della stagione della pesca del riccio di mare entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Buras. I giorni sono scaduti sabato. Le linee guida sono già state definite da tempo dalle unità operative che partecipano al piano di monitoraggio della risorsa. Agris ha già avviato il lavoro, tempestivamente poi pubblicherà le manifestazioni di interesse per gli aventi diritto. Lo precisa l'assessore regionale dell'agricoltura Gabriella Murgia che fa il punto sugli interventi messi in campo dall'Aggiunta a sostegno dei pescatori. Nei termini previsti dalla norma, ricorda l'assessore, l'Aggiunta regionale ha approvato con delibera del 28 dicembre scorso le direttive di attuazione. Nel dettaglio il decreto stabilisce che la remunerazione giornaliera per la prestazione di servizio fornita per l'attività di monitoraggio della risorsa Riccio di Mare e per la pulizia dei fondali sia di 250 euro per i pescatori professionali subacquei che operano dalla riva e di 500 euro per chi opera con un'imbarcazione d'appoggio e una persona preposta all'ausilio e al soccorso, 250 euro per il pescatore subacqueo, 150 per la persona preposta al soccorso e 100 per la spesa relative all'imbarcazione. Se sulla stessa imbarcazione, spiegano ancora, lavorano due pescatori subacquei professionali, la remunerazione giornaliera per la prestazione di servizio fornita è di 600 euro nel caso in cui gli stessi subacquei forniscano reciprocamente l'ausilio e il soccorso e di 750 euro se oltre ai due pescatori subacquei professionali si trova anche una terza persona imbarcata e preposta all'ausilio e al soccorso. Le amministrazioni interessate porranno in essere ogni adempimento necessario per garantire agli operatori le forme di salvaguardia del reddito previste dalla legge, fermo restando che i titolari di autorizzazione potranno comunque effettuare le altre tipologie di pesca previste, conclude l'assessore Murgia, che assicura il massimo impegno per trovare soluzioni sia amministrative che normative per far rientrare nel provvedimento anche gli operatori rimasti esclusi per diverse problematiche. In merito allo stop alla pesca dei ricci c'è da registrare l'intervento dei consiglieri comunali di opposizione di centro-sinistra ad Alghero. Per la pesca del riccio se ne riparlerà fra quasi tre anni, scrivono Sartore, Bruno, Esposito, Cacciotto, Piras, Dinolfo e Pirisi. Nel frattempo restiamo in attesa che l'amministrazione, il sindaco e l'assessore Avaccaro spieghiano a tutti i cittadini il pasticcio del centro di confezionamento e spedizione per i ricci alla pietraia, aperto in pompa magna proprio pochi giorni prima del fermo regionale alla pesca del prelibato frutto di mare. Aspettiamo di sapere, proseguono dall'opposizione consigliare, quale sia stato il motivo per il quale l'assessora, dopo aver fatto passare il tempo a braccia concerte, abbia aperto il centro solo ora che la pesca viene bloccata per permettere la riproduzione dell'echinoderma. Con l'interrogazione che abbiamo presentato e alla quale attendiamo risposta, vorremmo anche capire con quale coraggio siano state spese risorse pubbliche esagerate, quasi 4.000 euro, per la sola cerimonia di inaugurazione di una struttura che avrebbe potuto assolvere la sua funzione solo per pochi giorni. Restiamo infine anche in attesa di capire meglio il simpatico riferimento dell'assessora al possibile utilizzo della struttura per altri mitili che immaginiamo fosse diretto alle famosissime cozze di Alghero. Chiudono i gruppi di centrosinistra e dunque per Alghero, futuro comune, PD e sinistra in comune. Agenti di polizia penitenziaria ancora in agitazione nel carcere di Alghero. A inizio gennaio il segretario nazionale del sindacato autonomo, Paul Giust Roberto Melis, aveva annunciato l'astenzione dalla mensa per la grave carenza di personale. Ad oggi scrive in una nota lo stesso Melis nonostante il grido d'aiuto del 7 gennaio scorso, nessun segnale è arrivato da parte del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. Purtroppo per noi questo silenzio assordante non è certo un bel segnale. Ci pare di capire che forse non è di primaria importanza lo stato in cui svolge il servizio il personale di polizia penitenziaria. Prosegue il rappresentante sindacale che sottolinea come il personale si è ormai scorato e demotivato. Una nuova azione di protesta è annunciata per fine mese con altri tre giorni di astensione dalla mensa, ma il segretario del sindacato non esclude che si possa proseguire a oltranza qualora la loro voce resti inascoltata. Chiudiamo ora invece con un appuntamento ormai fisso sulla nostra emittente e non solo, questa sera alle 21 e alle 23 infatti su Catalan TV Alge Cultura propone un ulteriore appuntamento della rassegna i lunedì con la poesia, con un recital di Pierluigi Alvau dedicato alle opere di Giannis Rizzos. Le performance interpretative di Alvau saranno intervallate dagli interventi musicali di Gabriele Loriga, chitarrista classico algerese, docente di strumento presso gli istituti statali cittadini distintosi apprezzato nel corso delle serate di questa undicesima stagione dei lunedì con la poesia, la rassegna proposta da Pierluigi Alvau quest'anno sulla nostra emittente e continua ininterrottamente la propria programmazione della stagione 2021-2022, dunque inaugurata lo scorso novembre. E per oggi è davvero tutto, io ora come sempre vi lascio al Meteo. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.